La parola del Signore è luce, scaccia via le tenebre, le tenebre dell'ignoranza, della superstizione, di una religiosità vuota che non ha nulla a che fare con la vera fede, con un incontro personale con Cristo Gesù. Per la prima volta mi sono veramente resa conto che non avevo mai conosciuto Dio e che non avevo mai conosciuto Gesù e la sua parola mi ha toccato profondamente. Ho conosciuto un Dio totalmente diverso da quello che credevo fosse, perché ho conosciuto un Dio primuroso, un Dio attento, un Dio che non ti giudica per quello che stai facendo o per quello che hai fatto, ma ho conosciuto un Dio che vuole prendersi cura di te, che vuole sanare le tue ferite e che vuole ricostruire la tua vita che in quel momento a te sembra impossibile da ricostruire. In questo momento Cristo Gesù è il punto di riferimento che il Vangelo indica a coloro che hanno bisogno di liberazione, di salvezza, di perdono. A presto. A presto.